La notizia della separazione fra Pergolizzi e il Campobasso ha continuato a destare stupore nell'ambiente e nelle ore successive alla pubblicazione. Da fonti certe abbiamo appreso che si è trattato nei fatti di un esonero, pare per alcune incomprensioni sorte con la società, in merito ad un premio promozione promesso dalla dirigenza ai calciatori, sollecitato dall'ormai ex tecnico Rosso Blu. Pergolizzi ha lasciato Campobasso molto provato e malvolentieri perché nella nostra città non solo ha ottenuto un successo professionale e sportivo difficile da raggiungere, ma si è trovato anche bene nell'impatto con l'ambiente sia lui che la sua famiglia. Diremo anche a livello di una nostra impressione convinta e precisa che il tecnico siciliano ha lasciato l'ambiente molto scosso e probabilmente anche commosso. Il suo pensiero principale nel momento della partenza è stato rivolto soprattutto ai tifosi rosso-blu con i quali aveva instaurato un feeling invidiabile e dai quali ha faticato molto a separarsi, tanto che il suo saluto è stato rivolto soprattutto a loro dopo aver preso atto, come sembra, della decisione della società di non permettere che rilasciasse interviste ufficiali o che tenesse una conferenza di commiato per significare il suo dispiacere. La nostra è una deduzione basata sul fatto che difficilmente per una decisione così importante per la vita del Campobasso non sia stata organizzata da parte della società nessuna conferenza stampa, come invece in passato Rizzetta e Cirrincione ci avevano abituato anche per situazioni molto meno traumatiche. Tra l'altro sui social Rizzetta ha voluto salutare e ringraziare Pergolizzi, affermando che rimarrà nella storia rosso-blu e ha subito garantito ai tifosi l'arrivo di un nuovo tecnico che rappresenti l'ambizione del progetto nella categoria superiore. La cosa che ha colpito di più tutto il popolo rosso-blu è stata la vicinanza in chiave temporale dell'esonero da quello che è stato probabilmente uno dei momenti indimenticabili della storia calcistica rosso-blu con la festa seguita dalla trasferta di Chieti, datata 28 aprile, che ha sancito matematicamente il ritorno del Campobasso in Lega Pro. Solo 20 giorni che probabilmente testimoniano di una volontà della società di rinunciare al tecnico già maturata da qualche tempo e presa la prima occasione utile, cosa che si evince anche dalla fretta di procedere all'esonero anche prima della fine della Puls Cudetto che anche per Pergolizzi sarebbe stata la certificazione più concreta come riconoscimento per una stagione indimenticabile. Intanto domani alle ore 16, gara 2 della Puls Cudetto, Campobasso Carpi al Molinari con direzione di gara affidata al signor Palumbo di Bari. Puls Cudetto